Volevamo ringraziare un po' tutti i meetup della provincia, o no Enrica? Vi passo Enrica, facciamo un applauso! Allora, volevo ringraziare tutti quanti, per la vostra presenza, siete numerosissimi e non ce l'aspettavamo, siamo proprio contenti che siete visti qui. Ecco, volevo ringraziarvi perché siete tutti qui e non ce l'aspettavamo. I deputati stanno arrivando e innanzitutto faccio anche un po' la portavoce, passatevi il termine del nostro deputato del territorio, che è Luca Frusone, che non è... Non posso esserci, però è il sacco con il cuore. Per quanto riguarda invece il mitapo di Frusone, il mitapo della provincia, volevo dirvi che il Movimento 5 Stelle in provincia fortunatamente sta crescendo e per queste amministrative, oltre che per le europee, ma anche e soprattutto per queste amministrative, ci sono tanti ragazzi che si stanno impegnando e stanno portando avanti delle liste a 5 stelle. Una tra tutte è quella di Anagni. Ci vorrei dare a fare un applauso per te. Siamo tutti che è Anagni, che è la terra che purtroppo è famosa per essere la terra di Fiorito e diciamo che i ragazzi di Anagni si stanno impegnando fortemente per riportare in auge questa terra che ha tantissimo da dare. Vi presento il candidato sindaco della liste di Anagni, che è Mirko Sterbini. Sono un po' emozionato e grazie per la presenza che ci dà una stella di speranza. La Cioceria è una terra molto tosta, molto difficile da rovesciare. La partecipazione stasera è incredibile e questo ci fa capire che stiamo lavorando bene. A Anagni abbiamo un grosso problema che ha Fiorito, il clientelismo e tutte le cose correlate alla evoluzione. Abbiamo discusso la nostra pelle, questa cosa orricchete. Ci stiamo impegnando da un anno e mezzo con dei ragazzi giovanissimi tra i 20 e i 40 anni affinché il movimento cresca ma soprattutto faccia dei fatti. Poche polemiche e molti fatti. Abbiamo lavorato con tanti progetti e da circa 4-5 giorni siamo stati certificati dal blog di Grillo. Ecco, noi ci siamo impegnati con pochi soldi, con molta volontà, a far sì che la politica torni ad essere qualcosa di pulito, qualcosa di sentito, qualcosa di molto semplice. Io ho avuto un'esperienza a Parma con il sindaco Pizzarotti che ci ha fatto capire che dobbiamo rimanere come siamo. Non dobbiamo essere uomini di giacca e cavallo, dobbiamo essere persone semplici che portano avanti le reti. Quindi ci vengo a dirti, se sentite di volervi impegnare con noi, se volete darci una mano in qualsiasi modo, anche 10 minuti a settimana, mezz'ora a settimana, noi ne abbiamo bisogno perché senza di voi non andiamo da nessuna parte. La forza del movimento è questo che teniamo questa sera, è la comunità che sta pertenendo. Quel senso di comunità che si era perduto negli anni, che stiamo ritrovando pian piano, con molta umiltà e molta semplicità. Quindi, quello che posso dirvi è un grazie, vinciamo a voi. Allora, grazie mille, un caffettino, amici per te. È la volta dell'altro, un paesino, 15, ma c'è brano? Lo invito, ecco il bacio, ecco l'altra lista. Il nostro grande Armando, Timi, ecco, c'è brano. Siamo contenti, abbiamo ricevuto alle 17, oggi pomeriggio, la mail per la Liberatoria. Quindi adesso prosegue la nostra certificazione e devo dire che...